Ora la palla a volo in Serie A2, sono iniziati ieri i quarti di finale play-off, la SIECO impavida Ortona ha accarezzato l'impresa nella trasferta di ieri giocata a Siena, state vedendo alcune immagini, la più quotata formazione toscana infatti ha dovuto faticare molto per aggiudicarsi l'incontro al tie-break, i parziali 25-16, 25-28, 25-21, 31-33, 15-13, inoltre due ore e mezza di gioco. La gara, come notato anche dai risultati dai parziali, è stata molto bella e combattuta, Ortona ha ritrovato i suoi uomini migliori, soprattutto Cantagalli, autore di 16 punti, giocatore che nella seconda parte di stagione, coach Nunzio Lanci, non ha quasi mai avuto a disposizione. Mercoledì gara 2 ad Ortona, in caso di vittoria gli impavidi andranno a gara 3 in programma domenica prossima di nuovo a Siena.